...quasi io voglio fare qualcosa di... ...quasi si può fare... ...perché si fa un po' perciò... ...ha lasciato qualche preghiù di loro... ...aora puoi riprendere ancora a destra... ...che cosa è... ...la...morto... ...che duramente... ...la regola... ...la regola... ...la sua calma... ...la regola... ...la regola... ...la regola... ...la regola... ...la regola... ...la regola... ...secondo me... ...la regola... ...stanotte ho dormito... ...mi sono messa a scrivere due cose così... ...cosci... ...ha visto che nel lavoro abbiamo fatto... ... plays... ...l'incorso... ...l'incorso... ...da G two... ...la regola, produz ponto Fine... ...loi troppo da gotta... ...l'incorso... ... snap è possibile... ...la regola... ...loci più bella... ...la regola... ...loci più proprite... ...co sì, cos'è pesante... se volete anche voi tranquillamente a fianco insieme visto che è la prima volta di tutto andiamo a braccio facciamo così grazie guardate il capo di tutto lei è il capo guarda come si sposta è fantastica la scuola grazie grazie